Gare pulite, una. Gran premio di Spa, penalità di oggi, penalità di oggi dobbiamo fermarci ogni gira in box così posizione attuale ragazzi 12 1. 1 1. 1. 1. 1. 1. 1 l. 1. 1, 1. 1. 1 l'occasione della vita. Dopo mancherà le gomme morbide da mettere i fatti. Eh vabbè metteranno le dure. No ci sono 5 5 e 7 dico io ho fatto diciottesimo sempre anche l'ultimo giro è pop di certo il sito un po di mangiare i nostri tutti 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 devi tagliare il piano quando c'è traguardo ai bocchi mi sentirei nella corsia con la malossia che ultima c'è la risalva al setting non lo so se l'ha salvato non so se l'ha messo mannaggia i fiori vabbè l'ultimo giro pure sì sì bisogna vincere i box quando sei al quinto ma non ci si può superare la corsia di c'è la corsia di crescita dovremmo guadagnare tipo due minuti siamo pronti dai qua sto giro si va e si vuole ma incredibile eccezionale il mazzo io guardo bene ragazzi ventitresimo all position meritata dalle qualifiche per lui io ventitresimo come si cambia la visuale triangolo anche a me ha messo quella in basso non so o non mi capo che ci vivia ma stava quando fortuna qua che non parte a me è saltato l'audio della tv a cazzo no dimmi che non sono sul pvr sono subito stavo guardando stavo guardando dal pc no non si crede che è uguale ed è identico c'è stavo guardando dal pc stavo giocando con un lag di mezzo secondo però veramente non più io no ma cos'è io devo andare in box per forza perché ho rotto tutto ma guardate quanto siamo tutti dietro dai erano tutti fermi gli ho tamponati tipo in sete otto anche preso la penalità cadere a misura ai connessi che la cazzo quanto vanno a piano penalità per due ero fermo causato incidente ma cosa le penalità ma dai penalità per tre mi sa perchè non ho restituito operando una ma russa ma gogo da voi si manda diretti per quanto vengo io l'ho fatta apposta chiamato il secondo drive-thru buona casa secondi secondi c'ho 30 secondi di penalità perché se andrei su guadagnari infatti si è vero si ma quali persone io con ventunesima io sedicesimo con 30 secondi di penalità il progetto perchè mai fatto ridere si io voglio chi più un'epoca di chiacchia stai il fatto dritto c'è gli sto dietro senza lettoni stagate a un buro buono perché in partenza si sono bloccato per loro chissà che non è di qua la pista ho preso il muretto come godo che che mi ha centrato che cazzo di come mi ha messo no ma mi ha superato tutti io sto entrando adesso i box a me mi ha superato eh eh rudo diceva oh guarda quanto ho cambiato quanto abbiamo da quello davanti adesso te lo dico ma secondo me è poco perchè è solo in fondo a rettilinea saranno 12-13 si ma io non riesco più a superarli sti ebre quindi ti devi spostare il nome 9 e 7 vai 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 9 e 7 li pigliamo in giro fammi passare schumacher è morto Hamilton si ma è giocato a me ma è giocato a me e la sto andando dritto ma schumacher si è svegliato dal coma venga ecco il nerd che deve provare subito il barendo è uscito un po' per credere sperando che noi non stessimo giocando voleva provarli nascosto o un tempo stucane abbiamo presi e son qua mazzo qualche non ce la fai a vincere ho detto se poi 30 secondi di penalità ma anche i tipi io non ho penalità niente non ce la fai mazzagliano sono passi negli occhi su un povero gartighella messo per questo sto dicendo hanno usato il chiesto vinto al sorpasso ma mazzafuzza è un bolide non è ma in un giro recuperi 9 secondi non ne guadagni 20 ricordo entrata entrato vai vai molto bene molto benissimo molto benissimo è vinto anche i vantaggi oddio sono molto più veloci meccanici ma su un uo di noi no ho rotto l'alettone entrando vai anche io prima danse vai 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 dai vai 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 agreed vieni vieni soldi e lei 23 gott vieni riusciti vieni dai va solpasso illecito vedi è più o meno uguale secondo me almeno io non so te ma io sono uguale adesso ti dico mazzo ti prendo più ci bisognerebbe fare dei giri da record 10 secondi quindi come tempi sono uguali a quanto girate voi a saperlo non lo so 7 2 0 acquisto fiume ma è un'altra mia vittima d ecco perchè ho visto una ma sei superare all'orance c'è come per la testa curva è vero ecco lì percorso oria mazzo romanzo mazzo romanzo non mangi nessuno non mangi nessuno no no l'erba cosa sta laggando o sono io che non capisco quello che dite perchè laggo se che è sta curva non la so fare l'ho ripreso mazzo mi ha scritto proviamo poi va all'esterno oddio no ma perdo un botto no 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 ma hai superato no ho rotto l'aletto e andiamo ottimo oddio cpv penalità penalità per 4 ma non ho fatto niente stavolta cpv ha centrato tutti io li ho schivati tutti ha visto cpv entrare io tranquillo ho fatto la mia curva senza toccare nessuno penalità per 4 valutazione commissari vado a prendere il cpv e gocco adesso sicuro e io sono 9 e io undicesimo però te c'è una penalità io no dai dai che stavolta abbiamo guadagnato cpv yes perchè sono lì all'inizio della cosa dai 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 da quando sei gocco diciannovesimo oh io dici e sette e daniel io undicesimo come lo dici chi ti 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 Gli abbiamo presi quasi già Porca Eh vabbè poi ogni giro un po' miglioriamo Sicuramente Comunque Senna È dietro di me e non recupera lo stesso Sì ma tu quanto sei Gioca? Dietro di te Ah sì E Senna quanto è 22? Eh ma va che c'è 40 secondi di distanza Guarda prima di superavamo all'ultima curva Adesso addirittura qua Oh io sto facendo il giro record Ti sei incagliato il box Ottimo E qui si vince Entra il box Oh 2 e 0 6 Anche io anch'io Eccoti lì Giro in 2 e 0 6 Anche sono distrutto l'ala entrambi Io in 2 e 5 ho fatto 2 e 5 E il punto è che io vince io il poker Come carburante meno un giro Nooo Abbiamo Io c'ho il box Io c'ho la pedala Io c'ho la pedala Sì sì Non arriviamo di sicura Di arrivare al traguardo Io e poker dobbiamo togliere circa 3 secondi al giro Perché abbiamo il box dopo il traguardo Io ce l'ho prima invece E quindi dei guadagni nel giro Eh ma non cambia niente Eh sì Eh sì All'inizio del giro e dopo E però all'ultimo giro Se ti fermi prima Esatto un attimo Ma Detto lo io vedo Tutto fermo nell'ultima scicola Adesso si muore Ebbene Ebbene ho detto Una sponzata Eh alonzo Come di che ho superato CPBI box Attenzione C'è il blocco C'è il blocco qua Dai dai che sono già vicini Eh ho rotto Ho rotto l'ala entrando in box Perché volevo recuperare Ah Io sono in mezzo Dai io ma che devasto Addirittura C'è solo l'incognita Di quando finisco la benzina Addirittura punti Nono No però perdo Con l'entrata in box Niente Niente punti Grande Felipe Fu Pu Fu De la che tempone De la che tempone De la che tempone Troppo forte per noi Boom Sciantalo chiantano basta 20 ma non ho entrato vai di là vai di là dai entra il spazio 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 come una scuola di parte prima arriva diciassettesimo nonno nonno io probabilmente sarei arrivato dietro chiuso le scritte bagate ciò le scritte bagate ma guarda quanto tempo perso non ci posso credere non va bene voi ce l'avete le scritte bagate è figo dovremmo riprovare su un altro gran premio è bello potremmo evitare no l'ultimo giro possiamo evitare i box no 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 com' but truste Ну ma guarda quae aschwittam 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 aschwittam